Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. In questo video impacchetteremo dei regali di Natale. Nonostante io l'anno scorso abbia lavorato in un negozio proprio per fare dei pacchi regali, sono annegata, quindi vi avviso. Inizieremo dei regali un po' più piccoli, sperano che siano più semplici per poi andare alle cose un po' più ingombranti e mi scuso di sentire i passetti di Joy soliti che caratterizzano i miei video e nulla iniziamo. Per prima cosa tagliamo un po' di questa carta, questo video si sta rivelando molto più faticoso del previsto perché Joy non ha intenzione di lasciarmi andare. Allora... Allora ragazzi, mi sono seduta così Joy si sta calma. Dicevo, se siete dei perfezionisti non vi consiglio di guardare questo video perché farò tutto totalmente storto. E allora iniziamo da appunto i regali di Joy. Questo è il primo. Pensavo di incartarlo così. Comunque non stupitevi se facciamo i regali a te. Ok, prendo un pezzo di scotch. Allora... Grazie a tutti. Taglio un po' di pezzi di scotch. Per incartare i regali di gioia ovviamente usiamo gli scarti della carta. Taglio un po' di pezzi di scotch. So che è incartato malissimo ma voglio dire che è per un cane quindi direi che va più che bene. E lo mettiamo da parte. Anzi prima scriviamo il nome se trova il pennarello. Ok non si vede molto però non si vede niente. Adesso incartiamo il secondo regalo di gioia. Ok. 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 Quindi tranquilli, nessuno riceverà un regalo incartato male a parte Joy. Grazie a tutti. E questo mi ritengo abbastanza soddisfatta. Adesso passiamo ai regali di mia cucina. 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 Allora, prima di passare al pezzo forte, che credo sia troppo difficile per me, impacchettiamo questo regalo di mia mamma. Ok. Adesso passiamo ai regali di mia cucina. Come non hanno fatto a licenziarmi, potremmo fare qualche regalo. Semplicemente lì avevo una busta e dovevo soltanto decorarla con delle cose. Era molto più facile. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso dobbiamo accartare i regali dell'altra mia cucina. Il problema è che sono più grandi e quindi non so se ci entra nella scrivania tutta questa carta. Non so se dovremmo metterci a terra. 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 A terra mia madre è stato troppo difficile, è venuto malissimo. Però scrivo comunque il nome così sappiamo qual è. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Ci vuole coraggio per essere arrivati fino alla fine. Quindi grazie per chi l'ha fatto. E nulla, ho fatto del mio meglio ma veramente non sono capace. L'ho fatto per il video perché solitamente io non l'incarto mai. E ci vediamo domani con un nuovo video di Natale che spero sia migliore di questo ma non che ci voglia molto. E nulla. Io sono setta a terra, non so neanche se mi vedete. Buonanotte. Buonanotte. Grazie.